Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Questo caso è davvero misterioso, mi avete chiesto di approfondirlo su Google Docs, dove raccolgo le vostre preferenze, quindi sono qui per raccontarvi il caso di Maura Morrie, una ragazza che è letteralmente svanita nel nulla la sera del 9 febbraio 2004. Come e in quali circostanze? Lo scoprirete presto, ma ora, come al solito, procediamo con ordine. Maura Morrie nasce il 4 maggio 1982 a Brockton, nel Massachusetts, ma cresce in un'altra cittadina vicina di nome Hanson. È la quarta figlia di Frederick e Laurie Morrie. Ha un fratello maggiore di nome Fred, due sorelle maggiore di nome Caitlin e Julie, e infine un fratello minore di nome Curtis. La ragazza cresce in una famiglia cattolica irlandese, quando soltanto sei anni i suoi genitori divorziano e Maura inizia a vivere con sua madre. Si fa notare diventando un'atleta di punta nella squadra della scuola. Dopo il diploma, infatti, viene accettata presso la prestigiosa Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point, New York, dove studia Ingegneria Chimica per tre semestri. Una volta terminato il primo anno, si trasferisce all'Università del Massachusetts, ad Amherst, per studiare infermieristica. Maura ha un ottimo rapporto con la sua famiglia e in particolare è estremamente legata a suo padre. Fred e Lori, come già vi ho detto poco fa, hanno divorziato quando Maura aveva soltanto sei anni e la ragazza continua a vivere con la madre, ma fa visita a suo padre sistematicamente. Fred, in effetti, in passato andava spesso a prenderla a scuola e tra l'altro faceva l'allenatore di basket e di softball. Il loro legame era diventato sempre più forte man mano che Maura cresceva. Fred amava correre, ma soprattutto fare escursioni e Maura molto spesso si univa a lui durante il fine settimana per alcuni viaggi con meta le montagne del New Hampshire. Inoltre Maura era in contatto con un gruppo di amiche del liceo, dunque si può bene immaginare che fosse avvolta in una solida rete di sostegno e amore. Quando aveva incontrato il tenente dell'esercito William Rausch, Maura era ancora una cadetta e ben presto William per lei era diventato Billy, aveva iniziato a chiamarlo con questo affettuoso nomignolo. I due andavano molto d'accordo, infatti avevano iniziato quasi subito a frequentarsi durante il primo anno di corso di Maura. Billy aveva qualche anno in più e la loro relazione era continuata anche quando lui si era laureato e Maura era andata via da West Point. Billy quindi a distanza a Fort Steel in Oklahoma e Maura decide di organizzarsi per poterlo raggiungere. Sceglie anche lei di lavorare durante l'estate in Oklahoma in un ospedale in modo da poter trascorrere più tempo con lui. Maura tra l'altro è particolarmente legata ai genitori di Billy, specialmente a sua madre. La considera come una seconda mamma. Ormai ventunenne Maura ha un futuro radioso davanti a sé. Non vede l'ora di intraprendere una carriera stabile come infermiera, inoltre è ormai fidanzata da qualche anno. Non le mancano gli amici e è una famiglia amorevole che le vuole bene. Arriviamo a novembre 2003, mancano ancora sei mesi alla sua scomparsa. Maura ammette di aver usato una carta di credito rubata per ordinare del cibo da diversi ristoranti, incluso uno ad Headley nel Massachusetts. L'accusa viene successivamente archiviata dopo quattro mesi di buona condotta. A questo punto facciamo un balzo in avanti. È la sera di giovedì 5 febbraio 2004. È una notte nuvolosa, ci troviamo nel campus di Amst all'Università del Massachusetts. Maura studia lì e lavora anche nell'ambito della sicurezza del campus nel dormitorio di Melville. Il suo compito è controllare l'identificazione degli studenti quando entrano nel dormitorio. Sono le dieci, è una tranquilla. Maura sente il suo telefono squillare. Lo prende, guarda chi lo sta chiamando. È sua sorella Caitlin. Le due sono molto legate, si sentono ogni giorno e questa conversazione non è diversa dalle altre. Ahimè. Caitlin si lamenta del suo fidanzato, Jim Carpenter. Secondo alcune fonti, Maura avrebbe iniziato a piangere appena conclusa la telefonata. Ebbene, questo dettaglio non è risultato assolutamente vero. Maura infatti inizia a piangere circa tre ore dopo la telefonata per ragioni tutt'ora poco chiare. Viene confortata dalla sua collega di lavoro, nonché suo supervisore, Karen Maiotti, che l'accompagna nella sua stanza singola del dormitorio intorno all'1.20. Maura non ha mai detto a Karen perché fosse così sconvolta. I supervisori solitamente cambiano ogni 30 minuti circa. Ciò significa che Karen non è stata presente durante tutto il turno di Maura. Arriviamo a sabato 7 febbraio, quando il padre di Maura, Fred, giunge ad Amherst in Massachusetts per andare a fare spese. La ragazza guida una berlina Saturnera del 1996. I due si recono a fare acquisti nel pomeriggio, poi vanno a cena in una birreria che si trova nel centro di Amherst, che sono soliti frequentare. Un'amica di Maura, Kate Markopoulos, si unisce a loro raggiungendoli al ristorante più tardi, quella sera. Dopo la cena e qualche drink, il padre di Maura, Fred, è pronto per tornare all'hotel che ha prenotato il Quality Inn ad Headley. La ragazza lascia suo padre nella sua stanza d'albergo quella sera e, prendendo in prestito la sua Toyota Corolla, torna al campus dell'Università di Amherst, per partecipare ad una festa organizzata dagli studenti nel dormitorio. Maura e le sue amiche chiacchierano bevendo vodka e vino. Poi ad un certo punto Maura dice alle sue amiche che vuole restituire l'automobile a suo padre quella stessa notte. Le amiche però sono perplesse e notte fonda e Maura ha bevuto alcolici, non è proprio il caso che si metta alla guida. Così la ragazza racconta una bugia. Dice loro verso le 2.30 che sarebbe tornata in camera sua, nel dormitorio. Invece sale sull'auto di suo padre e parte per guidare lungo la Route 9 ad Headley. Durante il percorso Maura va a sbattere contro un guardrail, causando danni alla Toyota per un valore di circa 8.000 dollari. Sebbene Maura sia fortunatamente illesa, l'auto è gravemente danneggiata. Sul logo dell'incidente interviene la polizia locale, ma non viene presentata alcuna denuncia. La polizia accompagna Maura all'hotel dove alloggia suo padre. La ragazza è scossa per l'incidente, si scusa tanto con lui, ma sta bene. Alle 4.49 di domenica mattina, poco dopo l'incidente, Maura chiama il suo ragazzo, Billy Rausch, dal cellulare di suo padre. Billy la consola al telefono, anche se in seguito rivelerà che aveva pensato che Maura fosse scossa da qualcosa di più preoccupante rispetto ad un incidente non così grave. Il giorno seguente Fred scopre che la sua assicurazione avrebbe coperto il costo delle riparazioni, purché Maura avesse raccolto i moduli appropriati dal registro dei veicoli a motore. Fred adesso deve salutare sua figlia per andare a Bridgeport, nel Connecticut, per lavorare. Quindi noleggia un'auto e accompagna Maura al suo dormitorio. Quella stessa sera, domenica alle 22.30, Fred contatta sua figlia al telefono per ricordarle nuovamente di ritirare i moduli che servono all'assicurazione del registro degli autoveicoli. Maura dice a suo padre che lo chiamerà la sera successiva, ossia lunedì per le 20 al massimo, in modo da esaminare i moduli e compilare i campi con le informazioni necessarie. Il giorno dopo, lunedì 9 febbraio, Maura fa diverse telefonate. Prima delle 13 chiama Dominic e Linda Salomons, una coppia che possiede un condominio dove affittano appartamenti nel New Hampshire. La famiglia di Maura ha frequentato quella zona e ha soggiornato in qualche hotel, ma mai lì. I Salomons sono certi che Maura non abbia prenotato nessun appartamento del loro condominio. Certo, faticano a ricordare la situazione considerando che la polizia li va ad interrogare ben un anno dopo la scomparsa di Maura. Ma ne sono certi, in quanto il loro non è un hotel, ma soprattutto non opera come un hotel. Quindi prenotare un appartamento con così poco preavviso è impossibile. Gli appartamenti destinati agli affitti devono essere prenotati con largo anticipo affinché i Salomons invino la chiave per posta. Alle 13.30 Maura chiama una sua collega studentessa di infermieristica, anche se lo scopo della sua chiamata non è affatto chiaro. Alle 14.05 chiama per 5 minuti il numero 1-800, dal quale è possibile prenotare un hotel. Il sistema però è fuori servizio, quindi Maura ascolta le registrazioni vocali senza riuscire ad effettuare alcuna prenotazione. Nello stesso giorno invia anche un'email al suo ragazzo Bill Rauch in cui scrive Ti amo sempre di più. Ho ricevuto i tuoi messaggi, ma onestamente non avevo voglia di parlare con nessuno. Prometto di chiamarti oggi. Ti amo, Maura. Alle 14.18 prova a chiamarlo, ma Bill non risponde, così gli lascia un breve messaggio in segreteria in cui gli dice che lo ama, che gli manca e infine che desidera parlargli. Un'indagine ulteriore rivela che Maura aveva inviato un'email agli insegnanti della sua università per far loro sapere che sarebbe stata fuori città per diversi giorni a causa di un lutto in famiglia. Ebbene, non aveva subito alcun lutto secondo la famiglia di Maura. Una sua amica di nome Leeds dice forse voleva solo andarsene, probabilmente era molto sotto pressione. Ci sono ulteriori prove che suggeriscono che Maura avesse intenzione di lasciare il campus almeno per alcuni giorni. Aveva messo tutte le sue cose in delle scatole, probabilmente in vista di lasciare le università. Prima di allontanarsi dal campus lunedì, Maura prepara alcuni vestiti e prodotti da toiletta, tra cui uno spazzolino da denti e un filo interdentale. Intorno alle 15.00 di lunedì 9 febbraio, Maura lascia il suo dormitorio, entra nel suo veicolo, mette in moto e parte. Intorno alle 15.15 dello stesso giorno, Maura si reca ad un bancomat che si trova fuori dal campus e prelieva 280 dollari svuotando quasi del tutto il suo conto. Successivamente entra in un negozio di liquori e spende 40 dollari in alcolici. Si ferma anche al registro degli autoveicoli e ritira i moduli per il suo incidente d'auto. Poi si dirige verso New Hampshire senza tornare mai più indietro. Alle 16.37 ascolti i messaggi salvati nella segreteria telefonica. Questa è in assoluto l'ultima volta in cui Maura usa il telefono. A questo punto ci troviamo nella Connecticut River Valley, a due passi dal confine con il Vermont, più precisamente a Woodsville. Alle 7 di sera la 21enne Maura si ritrova su Wild Ammonsock Road, nota anche come Route 112. Questa strada si snoda lungo l'estremità settentrionale di Woodsville, vicino al confine con Bath, nel New Hampshire. In qualche modo, verso le 7 di sera, Maura si ritrova incastrata in un blocco di neve con la macchina a largo del Route 112. Faith Westman sente un forte tonfo fuori dalla sua casa bianca, situata all'interno di una brusca curva a sinistra. L'uomo sbircia fuori dalla finestra e vede il veicolo nero di Maura Morrie incastrato in un banco di neve a breve distanza da casa sua. È chiaro che ci sia stato un incidente. Alle 19.27 Faith Westman chiama il dipartimento dello sceriffo della contea di Grafton per denunciare l'incidente, descrivendo il veicolo come in un fosso. Non sa se ci sono feriti. In particolare, il registro riporta che Faith Westman ha affermato di poter vedere un uomo nel veicolo che fuma una sigaretta. Ebbene, non solo Maura non ha mai fumato, ma è anche fortemente contrario al fumo, secondo sua madre e suo padre. Nel frattempo, dall'altra parte della strada, la vicina Virginia Marotte è in cucina con suo marito John che sta sbucciando un'arancia. La donna spiega. Dalla finestra della nostra cucina abbiamo visto un'auto in fondo alla strada con le luci di emergenza lampeggianti e qualcuno che camminava intorno all'auto. Mentre i Marotte guardano dalla finestra della loro cucina, osservano un altro vicino arrivare sulla scena in uno scuolabus. Arthur Butch Atwood è un ex residente di Tanton in Massachusetts. Lavora come autista di squalabus per First Student Inc., il secondo operatore di squalabus negli Stati Uniti. L'uomo sta tornando a casa dopo aver lasciato gli studenti che aveva accompagnato in montagna a sciare. Arthur si ferma sulla scena dell'incidente e nota una giovane donna. È sola nell'auto. Quella giovane donna è proprio Maura. Alla polizia Arthur dirà che i suoi capelli scuri erano sciolti. L'uomo poteva vedere chiaramente il suo viso. Secondo lui Maura era scossa ma non ferita. Maura nel frattempo lotta per uscire dalla sua macchina perché la portiera dell'auto è bloccata da un cumulo di neve. Sono presenti fino a 60 centimetri di neve sul terreno della zona. Arthur scende dal suo autobus e chiede a Maura se vuole che chiami la polizia. Maura gli dice di non preoccuparsi. Ha già chiamato la AAA ossia la American Automobile Association. Una dichiarazione della polizia di stato pubblicata dal tenente John Scarinsa quattro mesi dopo fornisce una versione decisamente diversa del loro incontro. Scrive quando il passante ha dichiarato che avrebbe chiamato le forze dell'ordine locale per venire ad assistere Maura lo ha supplicato di non chiamare la polizia stradale. Arthur dice che Maura rimane sul lato guidatore della sua auto. Rimane lì durante l'intera conversazione con Arthur. Arthur dice a Maura che può attendere l'arrivo dei soccorsi a casa sua ma Maura vuole aspettare nella sua macchina. Arthur a questo punto consiglia a Maura di accendere le luci della sua auto per evitare di essere investita dai veicoli in arrivo dalla curva. Arthur quindi riparte e se ne va guidando fino ad arrivare a casa sua per poi chiamare la polizia. Ha difficoltà a rintracciare l'operatore del 911 a causa dei circuiti telefonici occupati. Alla fine Arthur riesce a chiamare il centro regionale per le comunicazioni di emergenza di Hannover che fornisce avvisi d'emergenza per le forze dell'ordine. Di conseguenza a sua volta il centro regionale per le comunicazioni di emergenza di Hannover allerta il dipartimento dello sceriffo della Contea di Grafton alle 19.43 quindi 16 minuti dopo la prima chiamata di Faith Westman. Arthur parla con l'operatrice dei servizi di emergenza sanitaria dal portico di casa sua. Può vedere la strada ma l'auto di Maura non rientra nel suo campo visivo. Mentre parla passano alcune macchine ma Arthur non riesce ad identificarne nessuna. Non ho sentito né visto succedere niente di strano dice Arthur. Sulla base dei suoi ricordi dei tempi riportati dai registri della polizia la conversazione tra Arthur e Maura dovrebbe essere durata solo pochi minuti. A seguito dell'allontanamento di Arthur Faith Westman nota che le luci interne della macchina si accendono e si spengono. Tre minuti dopo alle 19.46 il sergente della polizia di Heverill Cecil Smith arriva sulla scena. Viene inviato alle 19.29 a seguito della chiamata di Faith Westman. Arthur quando arriva il veicolo della polizia va sul suo scuolabus per finire di compilare alcune scartoffie. In seguito stima che erano trascorsi dai 7 ai 9 minuti dal momento in cui aveva lasciato Maura a quello dell'arrivo dell'auto della polizia. Le prove sulla scena indicano che il veicolo è diretto ad est ed è uscito dalla carreggiata, ha colpito alcuni alberi, si è girato e si è fermato nella corsia in direzione est. Il sergente Smith il 15 febbraio sei giorni dopo l'incidente fa un rapporto. L'uomo si era avvicinato all'auto di Maura e aveva scoperto che era chiusa a chiave ma soprattutto non c'era alcuna traccia di Maura. Il parabrezza sul lato del guidatore era rotto ed entrambi gli harry bag anteriori si erano attivati. Ciò vuol dire che in una finestra di pochi minuti Maura Murray scompare nel nulla. Vengono trovati impronti di pneumatici nella neve ma non c'è nessuna impronta sulla strada. Il sergente Smith trova una scatola di vino dietro il sedile del conducente del veicolo e un liquido rosso sulla portiera del conducente. L'amica di liceo di Maura, Litz, sostiene che Maura non era una grande bevitrice ma spesso amava comprare il vino in scatola. Ebbene la scatola si è danneggiata molto probabilmente durante l'incidente e sulla strada vengono trovate delle macchie rossastre che ricordano il vino. Il sergente Smith in seguito recupera una bottiglia di coca cola che contiene un liquido rosso con un forte odore alcolico. Nell'auto non viene trovata nessuna delle altre bottiglie di alcol che Maura aveva comprato ad Amherst. Sebbene i rapporti successivi suggeriscano che un testimone abbia osservato Maura in stato di ebrezza al momento dell'incidente, la fonte di tali informazioni non è chiara. Prove circostanziali suggeriscono che Maura potrebbe aver bevuto vino prima dell'incidente. Ma Arthur conferma ad un giornalista che Maura non sembrava ubriaca quando aveva parlato con lui. Altri oggetti ritrovati nell'auto di Maura sono alcuni moduli assicurativi, dei guanti, un compact disc, qualche trucco e infine delle indicazioni generate da un computer per arrivare a Burlington e a Stowe nel Vermont. Il sergente Smith trova anche uno straccio infilato nel tubo di scappamento esterno del veicolo. Lo straccio proviene dal bagagliaio dell'auto di Maura. Ma non è chiaro se sia stata la ragazza ad infilare lo straccio nel tubo di scappamento e quale potrebbe esserne stata la motivazione. Infilare uno straccio in uno tubo di scappamento non solo implica il blocco del veicolo ma alla fine guasterebbe il motore. Il tappo del tubo di scappamento può anche essere uno strumento per verificare la presenza di perdite nel sistema di scarico di un veicolo. Sebbene l'avvelenamento da monossido di carbonio sia un metodo comune per tentare il suicidio normalmente richiederebbe un mezzo appropriato per indirizzare il gas mortale nel veicolo ad esempio un tubo flessibile. Se il fumo fosse uscito dal tubo di scappamento Maura avrebbe potuto tappare il tubo per evitare di attirare l'attenzione della polizia. Dopo aver controllato l'area intorno al veicolo il sergente Smith bussa alla porta del signor Westman e chiede alla coppia cosa avesse visto. Dopodiché guida fino alla casa di Arthur e trova l'uomo seduto a bordo del suo scuolabus. Il sergente Smith bussa al finestrino dell'autobus chiedendo ad Arthur dove fosse la ragazza. Arthur dice all'ufficiale che non ha visto nessuno da quando ha lasciato il veicolo di Maura. Alle 19.56 dieci minuti dopo l'arrivo del sergente Smith anche la fondazione della polizia dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza arriva sul posto seguita da un camion dei pompieri che sopraggiunge un minuto dopo. Anche il soldato di stato del New Hampshire John Monhan si ferma sulla scena dell'incidente. Non è chiaro a che ora sia arrivato se sia stato inviato lì appositamente o se si sia affermato di sua iniziativa. Il vice procuratore generale Jeff Strelson che ora sta gestendo i documenti per il caso afferma di non essere sicuro di poter fornire dettagli ma che avrebbe esaminato la questione. Il sergente Smith e Arthur guidano entrambi nell'area alla ricerca di Maura. Arthur guida per le strade secondarie e ci impiega circa 15 minuti. Tutti erano convinti che il sergente Smith avesse guidato in direzione ovest sulla route 112. Ma secondo Fred Morrie, il padre di Maura, nessuna ricerca era stata effettuata in direzione est sulla route 112. Alle 20.02 la fondazione della polizia dei vigili del fuoco e dei servizi di emergenza sgombera la scena e alle 20.49 anche i vigili del fuoco ripartono. L'auto di Maura viene rimorchiata a 16 chilometri dalla struttura di riparazione auto sulla route 10 a Haverhill. Alle 21.27 il sergente Smith riceve un'altra chiamata quindi si allontana dalla scena dell'incidente. A mezzogiorno del giorno successivo, martedì 10 febbraio, la polizia emette un BALL, ossia un Beyond the Lookout per Maura Morrie. Viene utilizzato principalmente dalle forze dell'ordine per inviare informazioni agli agenti e in altre parti della città o in un paese alla ricerca di un fuggitivo, un criminale o un delinquente in fuga, ma viene anche adoperato per persone scomparse oppure per oggetti rubati. Maura indossa un cappotto scuro, ha i capelli castani che le scendono sulle spalle e altra un metro e mezzo circa e ha gli occhi azzurri. Sulla scena tra l'altro manca anche il cellulare di Maura. Alle 15 e 20 di martedì Fred Morrie riceve un messaggio vocale sul telefono di casa che gli comunica che la sua auto è stata abbandonata a Woodsville nel New Hampshire. Alle 17 Fred riceve una telefonata da sua figlia Caitlin. L'auto di Maura è stata abbandonata e lei è scomparsa. Poco dopo aver parlato con Caitlin, Fred Morrie chiama la polizia di Haverhill e insiste perché inizino immediatamente a cercare sua figlia. La polizia dice a Fred che il New Hampshire Fish and Game Service potrebbe iniziare una ricerca mercoledì nel caso in cui Maura non sia ancora stata trovata. Martedì 10 febbraio alle 17 e 17 Maura viene per la prima volta definita scomparsa dalla polizia di Haverhill. 12 ore dopo inizia la ricerca formale di Maura Morrie. Il West River Motel è un rifugio modesto e accogliente che si trova sul lato del Vermont del fiume Connecticut proprio di fronte al New Hampshire. Il motel offre 11 camere e a partire da mercoledì 11 febbraio 2004 il West River Motel diventa il quartier generale non ufficiale per la ricerca di Maura Morrie. Solo 36 ore prima l'auto di Maura era stata trovata abbandonata lungo la route 112 a 12 km di distanza nella vicina Woodsville. Il padre di Maura Fred è il primo ad arrivare. Fred è un uomo energico sulla sessantina con una corporatura robusta, capelli brizzolati e una passione per la vita all'aria aperta. Conosce molto bene le White Mounds in quanto spesso ha fatto escursioni e si è accampato nella zona con Maura la più giovane delle sue tre figlie. Quindi ricapitolando Fred aveva fatto visita a Maura il fine settimana precedente a Demst nel Massachusetts. Dopo una visita di due giorni e alcuni acquisti fatti con Maura Fred era partito domenica da Bridgeport nel Connecticut per un lavoro in un ospedale locale dove aveva già lavorato come tecnico medico. Questa è l'ultima volta in cui Fred vede sua figlia. Sono circa le 17 di martedì quando Fred viene informato sulla scomparsa di Maura. Dopo diverse telefonate frenetiche alla polizia di Haverhill decide di mettersi in macchina e guidare. Mercoledì mattina poco prima dell'alba arriva alla stazione di polizia di Haverhill. Mentre la polizia organizza una squadra di ricerca Fred si dirige verso la route 112. Percorre una strada rurale e tortuosa che costeggia il fiume Wild Ammonusok che poi si trasforma nella Kingamanks Highway. La macchina di Maura viene trovata appena oltre una curva a gomito in un tratto di strada ricco di boschi. Fred perlustra l'aria innevata lungo la strada. Non è caduta altra neve da quando Maura è scomparsa e questo rende molto meno difficile la ricerca delle impronte. La sua macchina è già stata rimorchiata e portata via ma Fred ha perlustrato nuovamente la scena alla ricerca di eventuali indizi che sua figlia potrebbe aver lasciato ma ahimè non c'è nessuna traccia di Maura. Quello stesso mercoledì mattina a 2896 chilometri di distanza il fidanzato di Maura il tenente Bill Rauch si dirige all'aeroporto di Dallas Fort Worth per prendere un volo verso nord. Una volta saputo che Maura è scomparsa Billy chiede un congedo dalla sua unità a Fort Steel in Oklahoma per unirsi alla ricerca nel New Hampshire. Intanto i membri della famiglia Morrie iniziano ad arrivare a Woodsville inclusa la sorella di Maura, Caitlin e i suoi fratelli Freddy e Curtis. L'altra sorella di Maura, Julie, è di stanza Fort Bragg nella Carolina del Nord quindi raggiunge suo padre pochi giorni dopo. Il gruppo però ha pochi indizi per proseguire le indagini. I fratelli di Maura guidano in direzione est sulla route 112 a North Woodstock a Lincoln quindi attraversano la Kingamonks Highway fino a Bartlett e Conway. Queste sono delle città turistiche che la famiglia conosce bene dopo anni di vacanze estive. Controllano i motel chiedendo se qualcuno avesse visto Maura ma ahimè non viene loro riferito niente di utile. Successivamente si procurano dei volantini e le affliggono alle fermate degli autobus, alle stazioni di servizio e alle stazioni di polizia. Nel frattempo sulla route 112 i membri del New Hampshire Fish and Game arrivano sulla scena in elicottero mentre la polizia di Haverhill, ossia la polizia di stato del New Hampshire e una squadra di unità cinofila si radunano. Questa è la prima volta in cui la zona viene perquisita da lunedì sera. Un cane da ricerca annusa a lungo l'area cercando di rintracciare l'odore di Maura mentre un pilota di Fish and Game vola appena sopra le cime degli alberi controllando la foresta alla ricerca di impronte. La neve si era accumulata a circa 60 centimetri di profondità durante la prima settimana di febbraio. Non vengono riportati orari esatti anche se la ricerca deve per forza essere avvenuta prima del tramonto di quel giorno. Nel frattempo Lori Murray sta vivendo il peggior incubo per una madre. Apprende per la prima volta della scomparsa di Maura martedì pomeriggio quando la polizia di Haverhill chiama a casa alla ricerca del proprietario o della proprietaria di una Saturn abbandonata. Una caviglia fratturata impedisce a Lori di unirsi alla sua famiglia nel New Hampshire. Rimane a casa, in quella di Maura dove aveva cresciuto Maura e i suoi quattro fratelli. Si siede vicino al telefono e aspetta impotente notizie su sua figlia. Purtroppo ci sono poche buone notizie da riportare quel giorno. Fred Murray e il resto della famiglia non trovano nulla nella loro investigazione lungo la Kangamanks Highway. La ricerca in elicottero del New Hampshire Fish and Game rivela solo tracce di cervi e alci. Caitlin, la sorella di Maura, dice è davvero come cercare un ago in un pagliaio. Gli sforzi di mercoledì però creano un vantaggio significativo. L'unico cane da ricerca sulla scena può annusare un guanto di pelle nera trovato nell'auto di Maura. Il cane rintraccia il suo odore vicino all'incrocio di Bradley Hill Road a 91 metri in direzione est da dove era stata trovata la sua auto. Il netto improvviso di spedersi dell'odore di Maura in mezzo alla strada spinge il funzionario ad ipotizzare che la ragazza sia entrata in un veicolo di passaggio. Se l'avesse fatto volontariamente o fosse stata costretta rimane un quesito senza risposta. Mentre la ricerca della giornata volge al termine la polizia parla con le famiglie di Maura Murray e di Billy Rauch il suo fidanzato. Billy arriva a Woodsville mercoledì e incontra i suoi genitori Bill e Sharon che hanno viaggiato dalla loro casa a Marengo in Ohio. Billy viene interrogato a lungo in privato. A Fred viene chiesto se sua figlia avesse recentemente vissuto eventi traumatici e l'uomo nega. In una riunione quella notte la polizia di Heverhill ipotizza che Maura avesse intenzione di suicidarsi o avesse pianificato di scappare. Maura non aveva subito alcun agguato né era stata rapita almeno le indagini non portavano a questa conclusione. Così come risulta impossibile che Maura fosse finita a vagare nei boschi. Sostiene il capo della polizia di Heverhill, Jeff Williams. Spiega inoltre che siccome Maura ha già 21 anni ha tutti i diritti legali per allontanarsi e non voler essere ritrovata. Sharon Rauch, la madre di Billy, il fidanzato di Maura, non condivide tale affermazione. Dice queste esatte parole. Non posso credere che c'era stato un problema nella sua vita che l'avesse portata a scappare da tutti gli amici e i cari presenti della sua vita, ovvero la sua famiglia, Billy e infine un gruppo molto affiatato di amiche del liceo di Hanson. Esausto e sconfitto il gruppo di ricerca ritorna al Wells River Motel per la notte. Il giorno successivo, giovedì 12 febbraio, la polizia emette un comunicato stampa in cui afferma che Maura potrebbe essere in viaggio verso l'area della Kingamonks Highway ed è segnalata come soggetto in pericolo e probabilmente suicida. Il comunicato stampa afferma che alcuni testimoni sulla scena hanno riferito di aver visto una donna sola senza ferite apparenti che sembrava ridotta davvero male a causa del consumo di alcol. Non era ancora chiaro chi fossero i testimoni che avevano detto che Maura sembrava ubriaca. Intanto nel campus di Amrst è in corso un'altra ricerca nella stanza del dormitorio di Maura. Gli investigatori trovano i suoi effetti personali imballati in delle scatole. Inoltre una ricerca sul suo computer dimostra che ha scaricato le indicazioni stradali per raggiungere Berlington nel Vermont. La polizia e i consiglieri del college si incontrano più tardi quella settimana con gli studenti della classe di Maura. La preside della scuola per infermieri Aileen Breslin invia un'email all'intero college avvertendo della scomparsa di Maura. Cominciano quindi ad emergere dettagli sugli ultimi giorni di Maura al campus, incluso il fatto che Maura avesse detto di avere un lutto in famiglia quando non era vero. Successivamente era emerso che le carte di credito, il bancomat e il cellulare di Maura non erano stati utilizzati da lunedì, quindi dal giorno della sua scomparsa. Non era stato possibile tracciare la posizione del cellulare di Maura utilizzando la tecnologia GPS, probabilmente a causa della scarsa copertura del cellulare o della batteria scarica. Nel New Hampshire le ricerche proseguono fino a giovedì. Quel giorno viene pubblicato il primo articolo di giornale sulla scomparsa di Maura, un riassunto di 200 parole del Manchester Junior Leader. Maura è descritta come una ragazza con probabili intenti suicidi. Altre testate giornalistiche si sono rapidamente agganciate alla storia, comprese le stazioni televisive del New Hampshire e di Boston che inviano i loro giornalisti a Woodsville. La polizia informa i media che non sono emerse nuove piste, dicendo Abbiamo fatto un'intensa ricerca nell'area della scena dell'incidente. Potrebbe essere entrata nel bosco, ma non è stato scoperto nulla del genere. Di prove non ce ne sono. Dopo aver concluso la propria ricerca, quel giorno Fred e Billy si incontrano con i giornalisti in una conferenza stampa all'aperto a Bethlehem, giovedì sera. Fred dice ai giornalisti, questo è molto insolito. Non è da lei andarsene basta. Oltre a pronunciare questa frase, implora Maura di tornare a casa. I detective di Haverhill sospendono le ricerche in attesa di nuove piste. I membri della famiglia invece pianificano di continuare la loro ricerca nel Vermont venerdì, ragionando sul fatto che Maura avrebbe potuto essere diretta a Berlington o a Stowe. Ma quando Fred entra nelle stazioni di polizia del Vermont venerdì, rimane costernato nell'apprendere che le forze dell'ordine locali non sanno nulla della scomparsa di Maura. Il livello di frustrazione cresce per i membri della famiglia, come è ovvio che sia. Fred è sconvolto dopo aver appreso che lunedì sera, quando l'auto di Maura viene trovata, la polizia di Haverhill non aveva allertato altre stazioni di polizia lungo la Route 112. La polizia di stato del New Hampshire e i funzionari di polizia di Haverhill non commentano più il caso di Maura a questo punto. In alcuni rapporti precedenti difendono le loro azioni sulla base del fatto che non sono presenti prove di una rapina e neanche di un rapimento. Il tenente John Scarinsa, comandante della polizia della truppa F che copre la contea di Grafton e Coos, dice che comprende la frustrazione della famiglia di non sapere cosa si è successo. Il tenente però aggiunge, ma è anche vero che apparentemente Maura stava lasciando il campus senza comunicarlo alla sua famiglia, agli amici o al suo ragazzo. Ipotizza anche con i giornalisti che Maura fosse fuggita dalla scena per evitare l'arresto perché era ubriaca. In attesa di nuove prove e piste da seguire la ricerca ufficiale viene ridimensionata col passare dei giorni. Così i familiari e gli amici di Maura si dirigono a nord per condurre le proprie indagini. Anche gli estranei che non conoscono Maura si offrono di aiutare. Bussano a tantissime porte, casa per casa, telefonano e parlano con i residenti, compresi quelli che avevano chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Quando Julie Morrie, la sorella di Maura, ottiene finalmente il suo congedo dall'esercito degli Stati Uniti, arriva a Woodsville. La prima cosa che fa è andare sul luogo dell'incidente. Julie dice Volevo vederlo dopo il tramonto. Sono scesa dal camion e ho camminato su e giù per la strada guardando da diverse angolazioni e prospettive. C'era un pensiero costante nella mia mente mentre camminavo. Se fossi Maura, cosa avrei pensato? Julie continua spiegando che in quel momento è buio pesto e fa freddo, ma è tutto tranquillo. Poi però viene invaso da una sensazione inquietante che sostiene non dimenticherà mai. Fred, nel frattempo implacabile nella sua ricerca, insegue ogni nuova presunta pista cercata tra i detriti, nei boschi, guarda attraverso i fiumi e la ricerca di qualsiasi segno di Maura. Sono ormai passati dieci giorni dalla scomparsa della ragazza quando Fred si rende conto che alcuni residenti che vivono a poca distanza dalla scena dell'incidente non sono ancora stati intervistati, figuriamoci interrogati. Di conseguenza esprime il suo profondo disappunto alla polizia, giustamente. Le autorità quindi avviano una seconda ricerca giovedì 19 febbraio. La polizia di stato, i membri della squadra di conservazione della pesca e della selvaggina del New Hampshire. Tre cani di ricerca e un equipaggio di elicotteri fanno ricerche in un raggio di tre chilometri nell'area della Route 112 a Huntsville. In una conferenza stampa tenutesi alla fine della giornata, il tenente Todd Bogardus, un membro della squadra di conservazione della pesca e della selvaggina del New Hampshire, afferma che la ricerca sia rivelata inconcludente. Il tenente dice, le squadre di terra hanno controllato sentieri e strade e non ci sono indizi validi per continuare. Il tenente Scarinza è d'accordo con Todd, quindi dice, siamo sicuri di aver fatto tutto il possibile per trovare indizi sul luogo dell'incidente. A questo punto un appaltatore locale di nome Rick Forsier riferisce di aver visto Maura la notte del suo incidente intorno alle 8, a circa 8 chilometri di distanza dalla sua auto abbandonata. Rick Forsier vive sulla Route 112, a circa 91 metri da dove era stata trovata l'auto di Maura. Sta tornando a casa da lavoro quando si ritrova ad osservare una giovane donna corrispondente alla descrizione di Maura che corre in direzione est sulla Route 112. Quando Rick Forsier viene interrogato per la prima volta dalla polizia, 10 giorni dopo la scomparsa di Maura, non menziona di aver visto la ragazza correre perché è confuso sulle date e pensa, erroneamente, che si sia sbagliato e siano trascorse due notti dall'incidente che ha coinvolto Maura. La seconda ricerca chiaramente serve a ben poco per placare la frustrazione di Fred. Teme che lo status di persona scomparsa sia stato un ostacolo al proseguimento dell'indagine, quindi dichiara ai media. Questo caso lo dovremmo concepire in termini di un'indagine penale. Quando la seconda ricerca si conclude infruttuosamente, amici e familiari iniziano a tornare alle loro vite. Billy deve rientrare a Fort Steele in Oklahoma e circa due settimane dopo, il 2 marzo, i fratelli di Maura lasciano il Wells River Motel, esprimendo la loro totale stanchezza e disperazione. Gli effetti personali di Maura vengono restituiti alla famiglia. Caitlyn li porta a casa sua ad Hanover. L'auto stessa viene rilasciata dalla custodia della polizia, ma rimane al Lavois Garage a North Haverhill. Anche Fred, con gli occhi annebbiati, ma risoluto, lascia il Wells River Motel dopo tre settimane di ricerche. Però c'è da dire che Fred non si arrende. Fred infatti diventerà un cliente abituale del Motel, tornandovi quasi ogni fine settimana nel corso dell'anno successivo. Fred Morley è determinato, anche se la ricerca immediata di Maura è conclusa. Trascorsi quasi tre mesi, dopo aver ascoltato numerose notizie sulla ricerca di Maura, Rick Forsier controlla i suoi registri di lavoro e si rende conto di aver visto Maura la stessa notte della sua scomparsa. L'uomo dunque racconta la sua storia a Fred Morley, che trasmette le informazioni alla polizia. Il 29 aprile Rick Forsier viene intervistato dal tenente della polizia di stato John Scarinsa, il quale conferma che la sua storia è credibile. Con queste nuove informazioni l'8 maggio viene condotta un'ennesima ricerca. Ci sono squadre di cani e 15 ufficiali dei membri della squadra di conservazione della pesca e della selvaggina del New Hampshire che perquisiscono la zona in cui Rick Forsier potrebbe aver visto Maura correre. Ma anche in questo caso non vengono segnalati i nuovi indizi. Arriviamo al 9 febbraio 2005, siamo a pochi metri da dove la Saturnera di Maura era stata trovata contro un banco di neve un anno prima. Fred è presente, insieme a lui ci sono la famiglia, gli amici, un ministro locale e i soliti giornalisti. Fred attacca un fiocco luminoso e una foto di Maura su un albero lì vicino. Spero che questa sia l'ultima volta che devo farlo, dice Fred ai giornalisti. Ormai Fred conosce molto bene la zona. Da quando sua figlia è scomparsa ha trascorso quasi tutti i fine settimana sulle White Mounds arrivando da Bridgeport nel Connecticut alla ricerca di qualsiasi indizio. Questa tra l'altro è la sua ultima richiesta di aiuto all'FBI. Poiché Maura è ancora considerata una persona scomparsa, l'FBI può partecipare alle indagini solo se invitata dalla polizia di stato del New Hampshire. Fred ha anche chiesto l'aiuto del governatore per il rilascio dei documenti della polizia relativi alle indagini. Si tratta di registri telefonici e rapporti sull'incidente. Il governatore assicura a Fred che avrebbe esaminato la situazione. Dopo l'incontro Fred dice ai giornalisti che spera che il governatore Lynch intervenga a suo favore, cosa che in realtà non è mai successa. Lo stesso giorno Fred tiene una conferenza stampa alla Woodsville American Legion Hall con i genitori di Brianna Maitland, una ragazza che era stata vista l'ultima volta dopo aver lasciato il suo lavoro di cameriera a Montgomery nel Vermont circa sei settimane dopo la scomparsa di Maura. Montgomery si trova a circa 90 miglia nord di Woodsville. L'auto di Brianna è stata trovata abbandonata circa due chilometri dal luogo in cui lavorava. Alla stessa conferenza stampa sono presenti i genitori di Amy Riley che è stata vista l'ultima volta lasciare un bar a Manchester nell'agosto del 2003. Il suo corpo viene trovato nell'aprile del 2004 in uno stagno a Manchester a circa 193 chilometri a sud di Woodsville. Durante la conferenza stampa Fred tenta di chiedere aiuto all'FBI. Lui e le altre famiglie credono che i tre casi possano essere collegati e siccome i casi di Brianna e di Maura superano i confini di stato l'FBI dovrebbe essere coinvolta. L'FBI viene effettivamente coinvolta ma su base limitata poco dopo la scomparsa di Maura. Insomma il ruolo dell'FBI è limitato al fare interviste e interrogare la famiglia e gli amici di Maura nel Massachusetts. In seguito lavorano alla ricerca di Brianna ma il suo caso non viene mai collegato pubblicamente a quello di Maura. Esattamente un mese dopo l'8 giugno 2005 la polizia del Vermont e la polizia di stato del New Hampshire emettono un comunicato stampa congiunto affermando che non c'è alcun collegamento tra i casi di Maura e Brianna. Vi leggo immediatamente questo comunicato stampa. Gli investigatori ritengono che Maura fosse diretta verso una destinazione sconosciuta e potrebbe aver accettato un passaggio per arrivare alla sua destinazione. Dice il tenente scarinza nel comunicato aggiungendo che non c'erano segni di lotta o qualsiasi altra prova che indicherebbe che è stato commesso un reato. Due settimane dopo un agente della polizia di stato del New Hampshire si presenta alla porta della casa della sorella di Maura, Caitlin, a Danover in Massachusetts. Il soldato chiede che tutti gli oggetti ritrovati nell'auto di Maura vengano restituiti. Gli effetti personali di Maura vengono consegnati entro due settimane. La polizia inoltre confisca il disco rigido del computer di Maura che si trova nella sua stanza del dormitorio, poi prende in custodia l'auto di Maura che è rimasta chiusa a chiave in un garage di North Haverhill dall'incidente. La polizia spiega che un'unità per i principali crimini della polizia di stato si occuperà del caso e vuole condurre test forensi sull'auto di Maura e sugli effetti personali. Il fatto che l'unità per i crimini maggiori venga coinvolta proprio ora nel caso irrita dir poco Fred. L'uomo afferma di essere stato ripetutamente rassicurato sul fatto che la scomparsa di Maura venisse gestita allo stesso modo di un procedimento penale. Ad oggi la famiglia Morri è ancora all'oscuro del motivo per cui gli effetti personali di Maura sono stati sequestrati dalla polizia quel giorno. Un'altra perquisizione a terra viene avviata il 13 luglio. Più di 100 ricercatori cercano indizi nel raggio di un chilometro da dove era stata trovata l'auto di Maura. Non viene fornita alcuna spiegazione che motivi perché questa ricerca venga condotta se non per ribadire che la polizia sta cercando qualsiasi traccia Maura possa aver lasciato come lo zaino nero che si credeva avesse con sé quando si è allontanata dalla scena. Nel frattempo Fred sta conducendo la propria ricerca. Quasi ogni fine settimana si reca a Woodsville per indagare su qualsiasi suggerimento gli venga fornito. Che si tratta di seguire presunti avvistamenti di sua figlia o di controllare eccentrici personaggi locali Fred è il primo sulla scena. Ancora oggi Fred percorre i sentieri remoti della foresta del New Hampshire, scruta i veicoli di estranei, fruga nei cassonetti e negli scantinati e bussa persino alle porte dei criminali condannati. Prosegue con la ricerca senza alcuna paura. La persistenza di Fred porta a una lettera formale di denuncia proveniente da Haverhill, raccolta dal capo della polizia del New Hampshire, Jeff Williams. Williams avverte Fred che delle denunce di violazione di domicilio e parcheggio su proprietà private sono state presentate dai proprietari dell'area e che i recidivi sarebbero stati arrestati. La polizia non comunica quante denunce vengono presentate o da chi, sebbene un residente testimone dell'incidente, Faith Westman, abbia successivamente ammesso di aver presentato una denuncia ufficiale. Molti altri residenti di Woodsville invece hanno detto che le ricerche non sono un problema e si sono mostrati comprensivi riguardo alla situazione di Fred. Fred insegue voci, insegue piste, però la maggior parte di esse non comporta da nessuna parte. C'è però da dire che di tanto in tanto salta fuori qualcosa che merita attenzione. Alla fine del 2004 un uomo si fa avanti e si avvicina a Fred con un coltello a serramanico macchiato e arrugginito. Le macchie sono di un colore bruno rossastro, sostiene Fred. L'uomo dice a Fred che è convinto che suo fratello possa essere collegato alla scomparsa di Maura. Al momento dell'incidente di Maura il fratello viveva a meno di un chilometro di distanza, racconta l'uomo. Descrive suo fratello come vittima di violenza e dice che la ragazza che convive con lui ha iniziato a comportarsi in modo strano nel periodo della scomparsa di Maura. Fred di conseguenza cerca di consegnare il coltello alla polizia di stato. In realtà lo spedisce alla polizia di stato insieme a tutte le informazioni che ha ricevuto sul sospettato. Pochi giorni dopo Fred riceve conferma del fatto che il suo pacco è arrivato alla polizia, ciò nonostante non è mai stato contattato dalla polizia in merito al coltello o al possibile sospettato. L'uomo che si è fatto avanti con il coltello a serramanico arrugginito è morto all'inizio del 2005. Gli sforzi per raggiungere suo fratello non hanno avuto successo. Infatti l'identità del fratello e l'identità dell'uomo che si è avvicinato a Fred non vengono rivelate perché non ci sono prove affinché venga considerato un sospettato nella scomparsa di Maura. La polizia rifiuta di commentare quando le viene chiesto del coltello. Nel marzo del 2005 Fred, sempre implacabile, fa un'altra richiesta per l'intervento dell'FBI e il rilascio dei registri della polizia sulle indagini di sua figlia, purtroppo senza risultati. La frustrazione di Fred, unita ai tentativi falliti di accedere ai registri della polizia per il caso, lo spinge a intentare una causa contro varie forze dell'ordine, inclusa la polizia di Stato, alla fine del 2005. Più o meno nello stesso periodo circa 10 agenti di polizia e investigatori in pensione si offrono volontari per esaminare nuovamente le prove del caso di Maura. Questa squadra chiamata New Hampshire League of Investigators non è a conoscenza dell'esistenza di documenti riservati della polizia, ma ha analizzato i fatti a disposizione, intervistando nuovamente i testimoni e la famiglia. Tra gli obiettivi perseguiti tenta di creare una rete di supporto per la famiglia che si sta inalberando sempre di più e serva sempre meno fiducia nella polizia. John Haley, un ex agente della polizia di Stato del New Hampshire, che è uno dei leader della squadra, dice Il nostro compito è essere una sorta di cuscinetto tra la polizia e la famiglia per aiutare la famiglia a capire cosa sta facendo la polizia dietro le quinte. Il team segue varie altre fonti e dopo un anno di revisione dei materiali disponibili, gli investigatori volontari organizzano una ricerca di due giorni nell'ultima settimana di ottobre del 2006. Le squadre di cani vengono disposte in sei diverse aree di proprietà pubblica entro 8 chilometri da dove l'auto di Maura era stata trovata. Haley non fornisce dettagli sul motivo per cui alcune aree erano state perquisite più attentamente di altre, spiegando solo che il 95% delle vittime di omicidi si trova entro un raggio di 8 chilometri da dove sono state viste l'ultima volta. L'obiettivo degli investigatori è quello di coprire a fondo quest'area. Vengono perquisite cave di ghiaia e cave di sabbia, poiché queste aree sono luoghi ideali per nascondere un cadavere. Anche l'area attorno a French Pond Road viene attentamente esaminata per la sua vicinanza. Ebbene, French Pond Road è la strada che Arthur Butch Atwood aveva percorso nella sua ricerca di Maura poco dopo che era scomparsa dalla scena. Anche Fred è presente per la ricerca e spinge gli investigatori a perquisire una casa in Valley Road vicino alla scena dell'incidente. Sospetta che quella casa possa essere in qualche modo collegata alla scomparsa di sua figlia. La proprietà è sul mercato immobiliare, quindi Fred cerca l'agente immobiliare Stan Davis e gli chiede il permesso di perquisire la casa. Stan Davis conferma di aver dato a Fred il suo consenso, quindi gli fornisce una chiave della casa. Il primo giorno un cane da ricerca cadaveri perquisisce la casa e inizia ad abbaiare parecchio una volta arrivato al secondo piano. Il giorno successivo altri quattro cani vengono fatti entrare in casa e a quanto dice Fred impazziscono letteralmente, soprattutto quando arrivano ad un ripostiglio al piano inferiore. I cani da ricerca cadaveri sono abili nell'annusare i corpi in decomposizione ma non sono in grado di distinguere le identità dei corpi. Sebbene un cadavere possa essere stato conservato in un armadio presente nel ripostiglio, i cani non sono in grado di identificare a chi appartenga il corpo. Gli investigatori recuperano alcuni sacchi della spazzatura pieni di oggetti e un pezzo di moquette dall'armadio. Secondo Fred il tappeto dovrebbe essere diviso in due pezzi. Una parte del tappeto andrebbe consegnata alla polizia di stato che non era presente alla perquisizione e l'altra parte andrebbe conservata dal gruppo di investigatori volontari. Un esame di laboratorio avrebbe quindi dovuto determinare se le macchie sul tappeto fossero sangue e se possibile analizzare il DNA. Avrebbe corrisposta quello di Maura? Sette mesi dopo i risultati dei test di laboratorio non vengono resi disponibili da nessuno dei due gruppi. C'è inoltre una gran confusione su chi abbia la custodia del tappeto. L'investigatore privato Don Nison che è l'attuale presidente dell'organizzazione di volontari è presente alla perquisizione della casa e sostiene che tutte le prove sono state consegnate alla polizia di stato. Don Nison dice non abbiamo una struttura di archiviazione adeguata a contenere le prove. Assicura che si sta facendo tutto il possibile per ottenere un risvolto positivo nel caso di Maura. John Healy, un ex agente di polizia di stato del New Hampshire, crede che l'unità omicidi abbia dedicato più ore al caso di Maura di qualsiasi altro caso recente. Jeff Strelzin, a capo dell'unità omicidi e assistente del procuratore generale senior, conferma che la polizia di stato ha dedicato centinaia di ore alle indagini. In un'odienza in tribunale, Jeff Strelzin sostiene che mettere i documenti a disposizione del pubblico ostacolerebbe l'accusa qualora nel caso di Maura fossero state mosse accuse penali. Prevede una probabilità del 75% di perseguimento penale. Nancy Smith, l'assistente del procuratore generale senior, afferma mentre testimonia in tribunale. Abbiamo informazioni che confermano che ciò potrebbe comportare un crimine. Come investigatore, Don Nason fa attenzione alle indagini della polizia per timore di compromettere il caso. Don Nason afferma che la maggior parte delle informazioni raccolte dagli investigatori volontari viene rilasciata solo alla polizia di stato e all'ufficio del procuratore generale, non a Fred, il padre di Maura. Fred a questo punto rinuncia totalmente a confidare nel lavoro della polizia e continua con la sua ricerca. È un caldo weekend di giugno e sono passati quasi tre anni e mezzo dalla scomparsa di Maura. Questa storia ancora non ha una fine. Fred Murray torna nelle New Hampshire, fa il check-in al Well Rivers Motel, ossia lo stesso motel in cui ha soggiornato il primo giorno in cui ha cercato Maura. Fred si siede su una poltrona nell'angolo della stanza modesta, sporgendosi in avanti con i gomiti sulle ginocchia, sfregandosi le mani e soprattutto guardando in basso, mentre ricorda mesi intensi di udienze in tribunale, sospetti e perquisizioni. All'improvviso Fred balza in piedi, sta fermo al centro della stanza con le mani sui fianchi. Ricorda un'escursione che ha fatto con Maura non molto tempo prima che scomparisse. Fred a questo punto si dirige verso una finestra che dà su un parcheggio, le mani sono ancora sui fianchi. Sono passati più di 18 anni da quella fredda notte d'inverno in cui Maura si è allontanata dalla sua macchina ed è scomparsa. Il mistero che circonda la sua scomparsa continua ad affascinare le persone, ma è anche vero che tutto l'interesse suscitato dal suo caso non è stato sufficiente a riportare Maura a casa dalla sua famiglia. Ci sono dozzine di teorie su cosa potrebbe essere successo a Maura e con così poche prove raccolte e individuate è difficile escludere definitivamente qualsiasi teoria a priori. Ma ci sono delle novità. La sorella di Maura, Julie, si iscrive a TikTok quando ricade più o meno il diciottesimo anniversario della scomparsa di sua sorella, cioè nel dicembre 2021. Guadagna rapidamente più di 50.000 follower e ora i suoi follower sono aumentati più del triplo e tramite il suo nome utente, Maura Morremissing, pubblica regolarmente aggiornamenti sul caso, condivide le sue teorie e cerca di correggere alcune delle informazioni sbagliate che sono state diffuse negli anni dal 2004. I video di Julie sono diversi, spaziano tra l'informativo, come una clip su quanti testimoni c'erano ad Haverill quella notte, al pragmatico, come un video in cui spiega chiaramente che divide il suo trauma in compartimenti per non doverlo gestire tutto insieme. Alcuni contenuti poi sono toccanti, come il collage di scatti in cui sono ritratte Julie e sua sorella Maura insieme. Parlando con messlive.com, Julie dice che ora ci sono persone che si interessano al true crime, che sono troppo giovani per ricordare la scomparsa di sua sorella, ma potrebbero comunque aiutare. Sottolinea inoltre che esprimere i suoi sentimenti in modo così crudo attraverso lo schermo della fotocamera del suo telefono aiuta gli spettatori a ricordare che Maura era una persona reale, non soltanto un caso di persona scomparsa e ancora non ritrovata. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video, spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete su questo caso, davvero misterioso per quanto mi riguarda queste scomparse senza spiegazione, sono davvero un sacco misteriose, ma sono curiosa di sapere la vostra opinione. Quindi scrivete quello che volete qui sotto nei commenti. Secondo voi che cosa è successo realmente a Maura? Insomma è stato un allontanamento volontario, secondo voi? Questa è una domanda molto interessante, secondo me potrebbe essere stato un allontanamento volontario, viste le prove, però non abbiamo assolutamente la certezza, quindi come al solito ci vediamo nei commenti. Sono curiosissima di leggere tutte le vostre idee. Detto questo, nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video, vi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!